Nell'incontro avvenuto tra la provincia di Teramo e la dirigente dell'Istituto Ipsia Marino è stato annunciato dal presidente Diego di Bonaventura l'edificio che fungerà da scuola giolli durante i lavori di ricostruzione in primis proprio dell'Istituto Tecnico che ricordiamo inagibile al 2016, ma anche per le altre scuole superiori cittadine lesionate dal sisma. Si tratta del palazzo di circonvallazione Ragusa che nel tempo ha ospitato uffici della ASLE, l'Istituto Tecnico Programmatori Pascale e la SOGET. L'edificio che per settembre verrà adeguato e ammodernato diventerebbe dunque struttura da utilizzare per spostare studenti uffici nella lunga fase della ricostruzione delle scuole. Ci aiuta un po' a mitigare le difficoltà, le varie problematiche che può produrre la ricostruzione perché sapete che abbiamo l'Ipsia che da 16 anni perché anche qui si fa tanta confusione ma i problemi arrivano da molto lontano perché i ragazzi hanno ragione a protestare che sono 16 anni che l'Ipsia sta in quelle condizioni. Adesso abbiamo individuato un edificio jolly, non è grande perché lo si voleva al centro della città per non delocalizzare, anche per non avere problemi con i trasporti e questa struttura ci aiuterà un po' a mitigare le difficoltà che abbiamo per le diverse scuole. È un punto di partenza, non è di arrivo perché stiamo cercando ancora altri siti perché la ricostruzione sarà ancora, ecco una volta che parte ci verranno ancora 3, 4, 5 anni e noi non possiamo far stare i ragazzi senza una scuola proprio identitaria. Sappiamo che l'Ipsia sta lì, i ragazzi vanno lì perché oramai sono 16 anni che sono divisi in una miriade di plessi. Abbiamo fatto un piccolo incontro proprio con l'Istituto che è scoraggiato perché giustamente ha sentito tantissimi proclami, tantissime promesse, gli dicevano ma sono felice che i ragazzi sanno che sono 16 anni che sono stati presi in giro. Io lo dico sempre, sono 3 anni che sono alla guida della provincia e ho guidato questa provincia nel periodo peggiore della storia italiana con due anni di Covid dove era impossibile incontrarsi e stiamo facendo veramente dei miracoli. Il dato positivo è che ci sono adesso soldi reali per la ricostruzione che sono circa 140 milioni di euro.